Sono molto orgoglioso oggi di essere a Pineto e inaugurare la prima area destinata alla continuazione degli arbusti. Nasce così Ethosland, oggi stanno mettendo a dimora le prime 300 piante e poi si sposteranno in un'altra area sempre di Pineto dove pianteranno le altre 700. Finalmente diciamo abbiamo il risultato di questa adesione al bellissimo progetto di A0CO2 di mosaico verde che qualche anno fa ci ha proposto di poter mettere a dimora mille alberi su Pineto in una zona di proprietà del comune e noi ne abbiamo individuate due. Ringraziamo anche Ethosland per il supporto a questo progetto e diciamo che l'albero è il primo atto più veloce per abbattere l'anidride carbonica e quindi noi abbiamo pensato per la città di Pineto di aderire a questo bel progetto che non ha nessun costo per l'amministrazione comunale e per i cittadini. Nasce oggi e vediamo il compimento di Ethosland sperando che questo sia il piccolo seme per il futuro per continuare il nostro progetto di forestazione delle nostre aree Ethosland.